Ieri l'incontro tra i sindaci di Piario, Villadogna e Ardesio per cercare di superare lo stallo in cui è entrata l'Unione dei Comuni Asta del Serio da sabato. Com'è andata? Io più che uno stallo la chiamerei un momento di riflessione, semplicemente perché Ardesio ha chiesto questo, noi glielo abbiamo concesso e questi incontri ravvicinati, il primo è stato martedì scorso, poi questo martedì, e ne avremo un altro martedì prossimo, servono proprio per capire le reali intenzioni di Ardesio. Mi auguro che si possa arrivare a una scelta in brevi termini. La richiesta fatta dai due comuni, Villadogna e Piario al sindaco di Ardesio è stata quella, il prossimo martedì arrivate con le idee abbastanza chiare, ma arrivate soprattutto con le risposte che noi abbiamo chiesto, cosa intendete eventualmente modificare di quello che è stato fatto in questi anni, perché questo è uno dei passi fondamentali. Dopodiché sarà una loro libera scelta se stare o non stare nell'Unione. Liberi di uscire, liberi di rimanere, sicuramente nessuno farà dei passi per tenere legato nessuno. Ci sono aspetti di come finora è stata impostata l'Unione che secondo Piario e Villadogna sono difficilmente negoziabili? Tutto è negoziabile a questo mondo, tranne il fatto che i pesi che ogni comune ha all'interno del voto dell'Assemblea sono poco negoziabili e anche la seconda cosa sono i costi, come verrebbero distribuiti, che dopo simulazioni e simulazioni e riunioni per trovare le percentuali di fisso ogni comune e di variabile in funzione degli abitanti e dei comuni, ritengo che questi siano veramente difficilmente negoziabili, perché sono frutto di un lavoro attento, di un lavoro preciso e di rinunce, chiamiamoli, più o meno grosse, proprio per arrivare a una soluzione la meno difficile per tutti, perché poi sappiamo benissimo che la perfezione non esiste e è difficile da raggiungere. Questo che abbiamo fatto è proprio il meglio che si è riusciti a fare. E se Ardesio dovesse salutare? Ce ne faremo una ragione.